Musica Un grande traguardo che si sta avvicinando è quello sulla salute, quindi sulla salute delle persone transgender. Il 5 giugno c'è stato il primo convegno, il primo seminario dedicato alla salute delle persone transessuali, transgender. Non se ne parlava da più di 30 anni dalla famosa legge degli anni 80, non si è mai parlato di salute in tutti questi anni, si è pensato ad altre problematiche che ancora non sono state risolte. Però la salute e l'importanza delle interazioni farmacologiche con gli ormoni, l'accesso alle cure per le persone transessuali che di fatto sono persone che non esistono. C'è un gap vero e proprio. Un uomo transessuale che deve fare una visita di prevenzione legata al proprio stato di salute sessuale non può accedere assolutamente. Perché chiamandosi Michele o Mario non è riconosciuto dal circuito e quindi non ti viene proprio prenotata la visita. Quindi c'è un gap importante che si sta affrontando finalmente, come anche le interazioni farmacologiche legate agli ormoni e farmaci che possono essere anche i più banali. Le interazioni tra gli ormoni e un'aspirina, ormoni e malattie croniche come il diabete, anche perché le persone transessuali non sono solo giovani di 20 anni, 25 anni, ma ci sono anche persone che si avviano comunque all'anzianità. Quindi la salute è un grosso traguardo e le associazioni sul territorio nazionale si sono unite insieme all'Istituto Superiore della Sanità e all'AIFA che hanno saputo ascoltarci e hanno saputo insieme a noi aprire una breccia e un percorso che faremo insieme. Grazie